L'esecutivo di Giuseppe Calabro ha approvato in linea amministrativa lo studio di fattibilità tecnica ed economica del progetto per la realizzazione di un parcheggio pubblico a raso su un'area confiscata alla criminalità organizzata, sita e località Calderà di Barcellona, Pozzo di Gotto, in porto complessivo dell'intervento 360 mila euro. Sono due i lotti dei terreni nell'area marina della città del Longano, uno di 1.735 metri quadrati e uno di 1.120. Con decreto del direttore dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e la criminalità organizzata, questi beni sono stati trasferiti al patrimonio indisponibile del comune di Barcellona, Pozzo di Gotto, per finalità istituzionali. L'esecutivo vuol presentare il progetto per l'avviso pubblico sulla valorizzazione dei beni confiscati per il PNRR. A Milazzo, invece, l'esecutivo Epippo Midili vuole riqualificare un'area di parcheggio nella piazza 25 Aprile, installando un sistema modulare amovibile per l'incremento del numero dei posti. Si vuole procedere ai servizi di ingegneria e architettura finalizzate alla redazione della relazione geologica a supporto della progettazione esecutiva. Sarà il geologo Alberto Fortunato De Salvadore di Santa Lucia del Mela a curare la relazione geologica.